Grazie. Grazie. Scena 1 Carlo. Azione. Forse è l'altra volta qui fuori, perché io sono venuto una volta, ti metto che non è in ambiente, io faccio l'animatore. Quindi c'è un fisico anche nel temore? A parte il fisico, mi piace proprio farlo. No, no, è un bel fisico. Il fisico va bene, però... Non è che ti stai imbarazzando, c'è un complimento che potrò fare. No, no, ma che imbarazzare? Io l'animatore ti parlo proprio a livello... Ma poi stiamo al solarium o al solarium? No, al solarium do... C'ho due sedute di solarium al mese, però il resto è tutto a bezzatura. Che faccio lì al centro... Atto la palestra... Sare andoso dalla stazione, c'è la palestra. Accanto c'è il solarium. Interessante. L'animazione a me mi ha dato molto. In che giorni fai, per curiosità? Adesso lì c'entra... Per sapere, perché anche io lo faccio, magari lo facciamo insieme. No, il solarium... Ci vado dunque, due richiami al mese, in genere il venerdì... Ah, sì? E il martedì. Interessante. Solo che ecco, noi dell'animazione ci abbiamo sconti. Allora, stop, stai. Beh, avete parlato di voi adesso, insomma, eh? Però, che vi ho detto io prima? Che c'è? Uno di due se ne deve andare, capito? Dovevi trovare un modo di andarsene. Ho capito. Pronti? Sì. Silenzio. Motore. Partito. Audio. Partito. Ciak. Scena terza, Carlo. Azione. Scusa, per l'azione ma non l'avevo capita, eh? Cosa? Io purtroppo sono... No, stop! No, no, no. Mi devi scusare se sto preciso su... Non ti preoccupare. Io già vestito così, mi sento... Tocca a me, scusa. No? Cosa? Mi sento... No, ma che fai, Carlo? Mi sento... Mi sento... Stavo a parlare con la regista. Motore. Partito. Audio. Partito. Ciak. Scena quarta, Carlo. Ciao a tutti. Sono Emiliano. Hai sentito azione? Devi aspettare azione. Mi devi scusare. No, figurati però, aspetta... No, ma ora le spiego, perché io vengo dal mondo dell'animazione, quindi già vestito così io sinceramente mi sento... Senti stretto. Il giaguaro sono, cioè un nome d'arte, un nome d'arte farire, però io ho fatto 5 stagioni a Rimini, 6 a Charm & Shake. Sì, ma ci crediamo. Sono stato sul Mar Rosso. No, per farti capire da che esperienza vengo, sono un PR, ho fatto anni di PR, ora mi vedi abbronzato un po' meno, ma io... Allora, facciamo così. Finisco subito. In genere... No, ci arriviamo piano piano. Questa è la prima, non ti preoccupare. Comunque le vabble creation sono le cose più importanti, cioè c'è tutto un giro... Guarda, fai così, tu ascoltazione e parti, va bene? Per farti so' conosciuto comunque, ma neanche so... No, ma ce l'hai, insomma, la... Poi adesso ne vedete abbronzato, ne vedete un pochino abbronzato così, ma io faccio due sedute al mese di lampada. Guarda Carlo, aspetta un attimo, perché prima... Allora, scusate, aspettate, vi ho detto soltanto una cosa, aspettate, l'azione, prima partite da dietro l'albero e poi tutto l'albero. Scusa, stai facendo un provino. Mi si è a cavallo? No, no, mi dovete ascoltare perché i tempi stringono, cioè abbiamo tipo due minuti, capito? Avete, anzi, avete due minuti. Allora, posso un minuto? Io gli stavo spiegando che mi trovo a disagio così. Va benissimo, allora, sei pronto? Vai, pronti, dai, vai. Vai dietro... Eh, esatto. Allora, silenzio, tu devi andare dietro, devi aspettare... Devi aspettare almeno due minuti e poi arrivi. Dietro, cinque metri dietro, sai che... Fai cinque passi indietro, guarda. Certo, guarda. Una mani addosso, una cosa, poi io... No, no. Dai, dai, guarda bene, va bene. No, io ne stavo introduttando. Proviamo, dai, pronti, su. Silenzio. Non ho tempo da perdere. Dai, mi nervosisci, scusa. Sto fanno vestire. No, stiamo perdendo tempo. Ho il suo buco. Vai, vai. Mi giocano. Non possiamo mica giocare. Allora, vai indietro. Guarda, allora basta, eh. Hai messo un profumo, sembra una... No, scusa, eh. Pronti? Vai. Pronti. Allora, silenzio, motore. Partito. Eh, partito da luce. Ma no. Scusa, vieni qua, eh. Allora, motore, motore. Partito. Audio. Partito. Ciak. Ciak, Carlo Sesta. Azione. boot State. Bandardo. Restito. Lo,星. Dan. Dio. Partito. Grazie a tutti